L'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi sulla Crimea e sulla Russia meridionale. Kiev punta infatti a colpire maggiormente sia la penisola annessa da Mosca che il territorio russo. Una strategia dettata anche dalla volontà di destabilizzare il Cremlino in vista delle elezioni presidenziali che si terranno il 17 marzo. Vladimir Putin spera infatti di ottenere un altro mandato di sei anni alla guida della Russia. Nella città di Belgorod in particolare due persone sono rimaste ferite e circa 100 abitazioni sono state danneggiate. Nello stesso centro urbano alla fine di dicembre un raid aveva ucciso 25 persone. Da parte loro le forze armate russe hanno colpito le regioni di Donetsk e Lugansk danneggiando abitazioni private, strutture pubbliche e provocando due vittime. La miniera dei Myrnorad si è trovata improvvisamente priva di energia elettrica mentre 17 lavoratori erano sottoterra. Fortunatamente tutti i minatori sono stati tratti in salvo.